calignaia 12 agosto 2019 splendida giornata di sole e di mare acqua calda tanta gente ora la bella spiaggia di calignaia non è sempre stata così e in questa breve bloccata video parleremo rapidamente della storia della spiaggia di calignaia prima del 22 di settembre del 2017 la spiaggia di calignaia era praticamente in una situazione stabile ossia mezza spiaggia era utilizzabile perché c'erano sassi relativamente piccoli sui quali era possibile stendersi l'altra metà della spiaggia alla parte destra era piena di enormi ciotoli e massi per cui era impossibile sdraiarsi sul lato destro della spiaggia a meno che non si scavasse nelle piccole buchette facendo delle piccole trincee in cui praticamente ricavare uno spazio spostando gli enormi sassi per stendere un po' di asciugamano in terra di conseguenza la spiaggia di calignaia era molto meno capiente di quanto appare oggi dopo l'alluvione del 22 di settembre del 2017 la spiaggia di calignaia è mutata la spiaggia è aumentata di almeno 5 o 10 metri e il fondale dalla parte destra si è molto abbassato sono stati fatti ovviamente come si vede dalle foto dei lavori di manutenzione e adesso la spiaggia di calignaia è interamente sfruttabile perché sono scomparsi tutti quei pietroni che un tempo giacevano sulla parte destra e limitavano lo sfruttamento dello spazio del lato destro della spiaggia